buongiorno amici buongiorno amiche oggi un video importante a cui tengo perché ho già fatto un video su questo adattatore però in questo video ho detto una cosa errata e visto che questo adattatore sta avendo molto successo anche tra gli amici del gruppo telegram android auto che vi metterò in descrizione ritengo doveroso dover fare un nuovo video per specificare meglio allora questo adattatore collega il vostro smartphone android al vostro sistema multimediale android auto e lo fa in modalità wireless quindi non vi servirà più il cavo ma vi connetterete senza fili non ha niente a che vedere con carplay quindi non collega un iphone e non sfrutta il modulo carplay per collegarsi alla vostra auto ma appunto come dicevo è un android to android vedete è inserito nella presa usb è abbastanza piccolo ha solo questo led che che lampeggia è fatto diciamo di un materiale solido e un nero opaco quindi non prende le le ditate e sinceramente mi pare che non scaldi mai non ho mai notato problemi di sorta anche spostandolo non non perde il segnale cosa che invece con altri adattatori hanno il cavo molto molto sensibile e se si spostano si perde il segnale a me questo non è mai successo io sto testando questo prodotto da mesi e non ho mai avuto un problema appena salgo in auto si collega in modalità wireless e quindi sono molto soddisfatto e anche gli amici del gruppo telegram in cui lo stiamo utilizzando in parecchi faccio una premessa io ho comprato e utilizzato il famoso a wireless car saifi è un po tutti i prodotti che ci sono in commercio mi manca solo il motorola m a1 che non ho non ho voluto comprare questo prodotto con 78 euro secondo me è il best buy è il best buy perché lo trovate su amazon 15 avete 30 giorni per fare il resto se non vi dovesse funzionare perché le auto sono tante i sistemi multimediali sono tanti può anche succedere che ci siano delle incompatibilità io per adesso non ne ho avuto notizia però la possibilità c'è sempre quindi con 78 euro vi trovate un prodotto che fa quello che sostanzialmente voi volete cioè buttare via il cavo allora altra cosa che avevo sbagliato nell'altro video e che tengo a precisare ci sono gli aggiornamenti firmware e io ne ho anche fatto uno quindi un domani se vi dovessero essere problemi con le future versioni di android c'è la possibilità di aggiornare il firmware e io vi metterò nella nella descrizione di questo di questo video vi metterò una guida che ho fatto io in italiano passo passo per l'aggiornamento firmware aggiornamento che non è difficile ma che comunque vi può essere utile averlo in italiano e con delle immagini di spiegazione vi metterò anche in descrizione il link d'acquisto su su amazon quindi ecco un video doveroso per correggere un errore che avevo fatto e per confermarvi dopo mesi che per me questo resta il miglior acquisto io che li ho provati quasi tutti questi questi accessori alla fine ho venduto a wireless ho venduto tutto e mi tengo questo perché si collega sempre si collega velocissimamente e quindi fa quello che vogliamo noi sostanzialmente buttare il cavo facciamo un piccolo una piccola aggiunta questi sono prodotti lui ha come diciamo concorrenza il carling kit a 2a e il ha come dicevo a wireless e card sci-fi cioè prodotti che sono dedicati a smartphone android che ci vogliono collegare al vostro sistema multimediale ed essere visti dall'auto come un android quindi come se voi foste collegati via cavo senza perdere le copertine spotify come in questo caso mentre altri prodotti sempre sul mercato come carling kit 4.0 come ottocast u2x e come molti altri questi qui invece vengono visti dal sistema multimediale come se fosse collegato un iphone questo si fa sì sempre che voi possiate utilizzare android auto in modalità wireless però ad esempio nella mia auto si perdono le copertine spotify e questo sinceramente a me da da un po fastidio ma se per esempio nella vostra auto qui il display non è generoso e non vi mostra le copertine spotify potete tranquillamente acquistare carling kit 4.0 che comunque funziona 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 discretamente oppure 8 cast u2x ma però ciò premesso io preferisco questo questo vi consiglio e direi che direi un po che è tutto saluto pasqui che ci ospita nel suo nel suo canale gli amici del canale youtube revo tech e ci vediamo presto con delle novità